E a 150 metri dall'arrivo, Melangeni ancora in testa, gli sta incollato Alfonso, Zolani lo incalza, ecco l'indirittura, Melangeni non molla. Ma, ma che succede? Quello è Franco, il nostro cameraman! E vai Franco, vai! Ha corso tutta, tutta la gara con la telecamera in spalla! È incredibile! Melangeni avrà l'oro, ma il cameraman che passerà la storia! Non credere ai tuoi occhi.